Ok. Ma non ti strapazzate troppo Gemma perché è meglio che adesso ti fai un bel sonnellino, ti metti proprio tranquilla sul divano, col pesce alle spalle. Ma tu sei contenta che non c'è? Col pesce alle spalle, poi se hai bisogno di qualcosa ci chiami. Gemma guarda ti fanno rimanere collegata e sei in un monitor, l'unica cosa è che hai davanti la mummia appesa, te lo dico. Ecco sì, guarda. Ma io lo sai che ho un'idea, ho avuto un'idea, visto che lei è assente, perché non mettiamo seduta la mummia? No. Se qualcuno mi aiuta a staccarla dall'alto. La mummia è in piedi. La mettiamo lì al suo posto, è un omaggio che ti voglio fare per non tenere quella sedia vuota. No, no, no. Ma Tina è in piedi la mummia. No, Maria, ma infatti spostiamo la sedia e mettiamo la mummia in piedi. Mi puoi aiutare per favore? Guarda, ti posso fare un consiglio? Non fare questa brutta figura, è brutta come coppia, veramente, lascia così. Alinna, non ascoltarla, non cadere nella sua trappola, veramente. Non cadere nella sua trappola, veramente. Grazie. 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 Grazie.